Professore, quali sono i disturbi del pavimento pelvico ed è possibile prevenirli? Allora, i disturbi del pavimento pelvico essenzialmente sono il prolasso uterino e disturbi a carico della vescica, cioè nel senso di prolasso vescicale, incontinenza urinaria o vescica iperattiva. Tutte queste cause hanno come comune denominatore un indebolimento del pavimento pelvico dei muscoli pelvici, le cui cause possono essere l'aumento di peso, i parti vaginali e direi anche la menopausa perché col calo d'estrogeni si ha una riduzione del tono del pavimento pelvico per cui si ha questo aumento di tendenza all'abbassamento degli organi o alla dislocazione, se vogliamo così, di questi organi. Cosa si può fare? Cosa si può fare? Si sono vari interventi ma direi volendo arrivare proprio al nocciolo della questione, esercizio fisico e non aumentare di peso. L'esercizio fisico sono anche previsti degli esercizi che possono aumentare il tono del pavimento pelvico fondati su contrazione e rilassamento dei muscoli perineali fatti in un certo modo che possono, se prima ancora del prolasso, possono prevenire il prolasso e possono prevenire tutti i vari disturbi vesicali.